Niente, volevo farvi soltanto vedere se mi riesce un paio dei miei disegni che mi piacere fare Questi qui sono i simboli cinesi indicanti alcune cose Allora, c'era un videogioco per PS2 Perché poi fu... no, sempre per PS2 Che era Onimusha In questo Onimusha ci stava la particolarità di poter aspirare le anime dei nemici che facevi fuori Nell'ultimo, che mi ricordo che feci vedere Ci stavano quattro tipi di anime da poter aspirare Quelle gialle, questo qua è il simbolo cinese per indicare il giallo Il colore giallo Erano quelle lì Diciamo Che ti facevano aumentare la vitalità Lealti Poi c'erano le rosse Questo qua Questi sono i simboli originali che usavano nel videogioco Le rosse che ti davano la possibilità di aumentare, diciamo, i punti per poter prendere oggetti e altre cose del genere Poi c'erano le azzurre Quelle lì, questo simbolo significa sia azzurro che verde Comunque indicavano il verde rame, il color ciano Ciano, verde rame Poi vi faccio un piccolo video su questo Praticamente è quel Cioè, queste qui ti dà una possibilità di aspirare a queste anime qua Per fatto della magia Gli attacchi magici e altre cose del genere Poi c'erano quelle viola Quelle viola, purpure, cose che ti davano la possibilità di Nessere ne avvi tanti, di usare il potere Oni Diventavi una specie di Oni Però l'Oni, quello che devi scrivere lì dentro Non mi pare che è un po' diverso Sia da quello giapponese Che da quello lì importato dai cinesi Cioè dall'estero Poi parliamo meglio di tutto questo E quel Oni là comunque, no? Ti poteva fare diventare parte di quel Oni Cioè diventavano un membro della casa Oni Comunque diventavano un nome, punto e basta Lasciavano verde Poi oltre a questo c'era pure Qual era un videogioco della Capcom C'era un videogioco della Street Fighter EX Plus Street Fighter EX 2 Street Fighter EX 2 C'era il personaggio di Garuda Che aveva la possibilità di pilotare alcune anime Con una sua mossa che adesso non mi ricordo Comunque il nome della sua mossa Li portava questo simbolo qua Che significa pallido Dentro di Oni in Musha ci si aveva Sochi, il guerriero della cenere Che si faceva chiamare Che era blu Si faceva pure chiamare Comunque Sochi qua Portava come simbolo del suo nome Questo qua Che è lo stesso Che indica le anime Quello lì di Della mossa delle anime che faceva Garuda Questo, sapete dire Pallido L'ho tradotto Come grigio pallido Una cosa del genere So che come la cenere Una cosa del genere Poi ci sta il simbolo della fiamma E' questo qui Il simbolo della fiamma qua Che indica Come Caspi si chiama Quello fa Il simbolo della fiamma Quando c'era una Una Fiamma Un fuoco acceso Se no usano sempre questi colori qua Perché Praticamente le anime Che faceva vedere Dentro Era come una specie Delle fiammelle Un poco simile A quelle di Death Mask Che fa vedere Dentro senza serie Però Quelli di Death Mask C'aveva una coda lunga Quella che salenda A Onimotion C'aveva quella coda lunga Faccio vedere Allora Questi qua L'ho ripigliato Dentro ai videogiochi Precisamente Quelli dell'S&K The King of Fighter Energy of Battle Colosseum Cos'è Quell'altro SVC SNK Vs.K C'aveva una coda lunga C'aveva una coda lunga Mugen Che però usavano sempre la coda grafica La Queste sono quelle lì Della grafica Delle S&K Queste qui in particolare Lo usava Billy Kane Questa forma qua No? Un paio di colori Dico meglio Queste Forma qua La usavano Billy Kane Quando faceva la Mossa finale Oppure Atena God Atena Quando faceva pure Lei è una mossa Questo tipo qua Che dovrebbe essere una specie di palla di fuoco gigante Io ho usato queste Ci sono vari colori No? E io ho fatto pure la sagoma Ho usato questi Proprio questi Come si chiamano queste cose qua? Proprio queste cose qua Perché sono tra le meglio disegnate Qui All'esempio qua Ci sono pure Altri tipi di fiamme Questa qui Era quella Della Sfera Blitzball Che lanciava Wolfgang Krauser Sempre Da The King of Fighters Nel 96 E The King of Fighters Nel 98 L'ultimo Che uscì Nel decine anni dopo La migliore annata Di The King of Fighters Fosse i migliori Di The King of Fighters Tutti quanti Quest'arte Fiamme qua Sono quelle lì Che Mi pare che usavano Quelli dei Kusanagi Kusanagi Che poi si faceva qua Poi Aspetta Quest'arte Questa è quella Che usava Che io proprio Questa striscia qua Questa è meglio Come disegno Poi usavo Ebbè Si sono vari Che usavano Però Erano disegnate Abbastanza bene Per questo Mi baso Su quello Comunque Questo è il colore Del legno Ho pigliato Vari tipi Di cose Che indicano il legno E ci ho fatto Questo tipo Di colore Qua Ci ho usato Questo colore Qua Ci ho fatto La palette Così Questa qui E' la palette Per Cioè Quando Vi faccio vedere Le palette Ecco Le palette Che ho Solitamente Usato O Diciamo Classificato E Bonotto Sanatori Che vanno Da tanto Fino a Questo Poi Si Disegni Casamani Ti metto Tipo Su un Deviantart O Da qualche Parti Dove Si possono Pure Scaricare In maniera Pulita Cioè Senza Discizioni E altre cose Del genere Come Allora Questa qui E' come Vengono Quando Uso Il colore Del legno Queste Come vengono Quando Uso Il colore Rosso Per Quando Devo Fare Le Fiammelle Rosse Questo Per Quando Devo Il colore Fuoco Questo Per Quando Devo Fare Tipo Colore Giallo Come Erano Quelle Fiammelle Gialle Che Tamentavano La Vitalità Questo Verde Ce l'ho Potuto Mettere Io Bella Queste Qui Quelle Pallide Che Facevano La Mossa Di Garuda Queste Azzurre Quelle Che Facevano Il Potere Magico E Questo Qui E Quella Li Viola Che Come Casper Si chiama Ti Facevano Dimentare Loni E Poi Questo Qui Grigio Che Ho Potuto Mettere Bianco Nero Mi Piaceva E Queste Qui Poi Invece Sono Le Sagome Queste Poi Sono Sempre Le Stesse Cose Per Ognuno Di Loro Ci Messo La Paletta Corrispondente Stanno Alte Tavole Questa Questa Numero Zero Si Riesce A Prendere Prendere Niente Niente Qua E E Schifo Comunque vedete, questo tipo di segno era la fiamma che sputava dal sim dentro al... come si chiamava? che poi i colori li ho dovuti tutti quanti mettere assieme. Questa qui era la fiamma che sputava dal sim dentro a SVC Chaos quando aveva... è buona, pure la sua, quella li che sputava dal sim dentro, come si chiamava quello... mi pare... Street Fighter vs Marble, ma comunque questa è grafica abbandonata, eh? Comunque se qualcuno mi fa qualcosa basta chiedere che io lascio vedere. Con questo qua era sempre la fiamma che faceva dal sim, sempre la fiamma, e queste marmine che se ne andava. Ho detto, solitamente prendo queste qui perché sono quelle disegnate abbastanza bene. Questa invece è la, diciamo, palla di fuoco che sta da varie parti. Tipo questa la doveva lanciare Red Armored, quel personaggio di Capcom, però sempre in versione di King of Fighters, cioè con la capa di King of Fighters, con questo qua uno, due... cioè sia orizzontale, che può essere pure ribaltata, che la fa diventare più verticale, che può essere pure ribaltata. Poi ci sta quella lì a 45 gradi, diciamo, che può essere pure ribaltata, e poi ci sta quella lì da 75 gradi, eccola qua. Qui dovrebbe finire quello di 45 gradi, qui incomincia quello di 75, che poi può essere pure ribaltata, e... non so, ma anche se... questo è sicuro 45, e questo qua, pare... tra 45 e 90... la media tra 45 e 90, che poi potrebbe essere ribaltata per far diventare la media tra 0 e 45. faccio vedere... comunque questo qua, finisco fino a sotto qua. Con gamma faremo tutto quanto. Allora... questa qua... questa qui... questa qui... è... diciamo la linea... dello 0... questa è ortogonale... diciamo a 90 gradi... questa è 45... quando la fiamma... quella lì che sta tra... eh... 45 e 90... bisogna fare un misto... e quella lì è la... fa... l'inclinazione che pigliano quel tipo di fiamme là... invece quelle che possono essere ribaltate... e per fare avere invece quest'altro tipo di inclinazione... perché questa... diciamo che è... speculare a quest'altra... in base all'asse questo qua... non c'è capito un cavolo... ho capito... eh... comunque... questi qui... eh... sono i simboli... ehm... che ho pigliato dentro a... come siamo quello... Samurai Spirits... quattro... eh... quello era... Amaxa... Revenge... dovevo parlare per bene in giapponese... eh... se no... tutti quegli anni... a studiarlo... pure... non si dice Kusanagi... ci dice... Kusanagi Kyo... ecco qua... beh... questi miei amici lo sanno fare meglio... comunque... allora... questi qui sono i simboli... che sta... non so che caspiro significa questi simboli... eh... comunque... lo ricordo... questi erano quelli segnati meglio... eh... questo qui... eh... sempre... Samurai Spirits... questi qui... sono gli stessi... questa corona qua... la stessa... questa qua... questo qui... comunque... sempre Samurai Spirits... questi lo pigliati dentro al gioco di... ehm... Mugen... di Sailor Moon... c'aveva Sailor Mars... eh... che... non mi ricordo... come si chiamava... questo vero nome... comunque... questo qua... sempre... questa era la mossa di... a Max... eh... sempre questo qua... comunque... questo è... Samurai Spirits... questo invece... sta venendo a Gartigir... un personaggio di Gartigir... che adesso... non mi ricordo il nome... c'aveva pure lui... questi qua... questo qui... non mi ricordo... ma... dovebbe significare... eh... un massacro... o qualcosa del genere... questi sono gli stessi di questo... comunque... con calma... faremo tutto... questo qua... dovrebbe essere... il Khan... lo stesso simbolo... che usava... eh... Shaka di Virgo... quando faceva... la sua barriera di protezione... questo l'ho pigliata... a The King of Fight... 95... questo... a The King of Fight... 96... questa scritta Fight... stava pure... a The King of Fight... 94... vabbè... questo l'ho trovato... in qualche parte... questo qui... l'ho preso invece... dentro a... come si chiama... un gioco di... Dragon Ball... eh... un simbolo... stava da un'altra parte... che si vede meglio... dove... stava da un'altra tavola... poi qua... comunque... questo è stato un video... d'inizio... tanto i miei visi... vanno tutti schifo... questo... questo... qui di lato... qua... sta venendo a The King of Fight... 95... nella... stage di... eh... dei coreani... era... un albero bruciato... poi io l'ho ripulito... per... avere... soltanto... la fiamma... e... ogni vicino... ognuno di queste... ci sta un piccolo... segno... in modo che mi... ricordo per bene... posso trovare per bene... la collocazione giusta... per poter farci... l'animazione GIF... che è finito qua... questo è... il coso che ho... pigliato... da... Cosi Sailor Moon... questo... e questo... pigliato... vabbè... ce ne ho pigliato... comunque... queste cose qua... eh... la collocazione... di questi... simboli qua... no... non è casuale... devono essere... proprio messi così... lo... si capisce... non dall'anime... kujaku... lo splendente... io vado a parlare... in cerca di questo... perchè... questo... simboli particolare... comunque... non mi ricordo... che cosa significa... tutti quanti... perchè... ehm... d'altra parte... no... comunque... facciamo con calma... comunque... questi qua... sono i tipi di... ma... questo... non è niente... eh... io le faccio vedere... il resto... è un... come passatempo... è simpatico... io non so disegnare... proprio per niente... però questo... è facile... eh... facile... è una parola... un po' grossa... comunque... ehm... se riesco... a far vedere... qua... ehm... faccio vedere... per esempio... uno che... un altro che faccio... vediamo un po'... modifica... ehm... no... questo... esatto... qua... ci bisogna modificare... se altrimenti... ci mettiamo a cantare... ehm... perchè... la pagina che diceva qui... è bella gossa... c'era... il foglio che diceva qui... è bella gossa... molti di questi... ehm... sono abbandonati... ehm... però... ehm... non... l'Africa abbandonata... più di... dieci anni... dieci... forse pure venti... mo se quello si... vuole aprire... ehm... se altrimenti... facciamo senza... qui per esempio... sono altre cose... che sto cercando di fare... ehm... mi piacerebbe... riuscire a fare... ehm... non so se si vede qua... ehm... le facce... impresse... dentro le zucche... cioè... faccio una zucca... disegno... prima una zucca... animazione... gif... cose... e poi... pixel art... e poi... ci mette alla faccia una persona vicino... ecco qua... questo è quello che ho recuperato... un po' in giro... perché molti di questi... non sono manco originali... sono fatti... da... altri appassionati... per fare i Mugen... i Mugen sarebbero... i... i disegni... diciamo... i videogiochi e i combattimenti... di una volta però... rifatti... da capo... dagli appassionati... perché... piacevano troppo... e... ognuno si voleva fare il suo... per esempio... ehm... ehm... come posso fare... no... comunque... è una cosa bella... questo è un vecchio progetto... prima di angolo di quello... avevo fatto già quest'altro... ma comunque... è vero... ma... questi per esempio... li ho recuperati... dal Mugen... poi... ci ho... ehm... fatto per bene... per andare dalla friccia... ehm... la friccia... mettiamo così... mettiamo così... ecco qui... ecco qui... questo è il Krauser... che fa la sua camminata... che ho dovuto... pure... riempire qui... il braccio... perché... quella lì... del Mugen... qua... non ci aveva... già avevo pensato... a riempirlo... ehm... piccola... qui c'ho fatta la palette... per ogni... singolo... colore... con questi qua... non è... in Italia qui... non ho visto tante queste... ehm... la maggior parte delle persone... sta ancora a disegnare... con la mano io... questo è tutto quanto... fatto con... mouse e tastiere... ehm... questo qui... è Krauser... che si gira... con la sua sagoma... questo è stato... all'Internet King of War 96... l'ho ripulito... in 96... questo l'ha fatto... ehm... un altro artista... che però... ehm... io oggi ho cambiato i colori... speriamo che non si riesce... ehm... prendere collera... questa è un'altra camminata... che fa... Krauser... comunque... questa non è un movimento... proprio suoi... che però... sono stati... ehm... riadattati... per esempio... questa camminata qua... era quella di... Rugal Bernstein... che poi... uno l'ha riadattata... a Krauser... e io... l'ho... ehm... ripigliata... dal Mugen... questo è qui... un altro... questo è proprio... questa qui... è senza il mantello... che si... devo fare... infatti... dei capelli che... si muovono col vento... quando c'è un po' di tempo... vedete... qui per esempio... i capelli... si muovono insieme... al mantello... come ce ne state... a lavoro... perché... è rilassante... questa è la paletta... questo... sono i suoi sangue... ehm... tipo... se devi fare un disegno a qualcuno... ehm... questo è bello... come... questa è... quando lanciavano la... la... Kaiser Wave... questo... lo ho pigliato in dal Mugen... questo tipo di... fa questo... tipo di... sprites qua... diciamo... vabbè... qui alcune volte... ci ho... segnato pure... dov'è che... stava... quando sono già informati... jpeg... solitamente... sono tutti... sfocati... e... sfocati... comunque... ce ne sta... da fare... e... se qualcuno... non... mi... va... se...